Bentornati a tutti. Oggi è mercoledì, 25 settembre 2024. Di seguito le previsioni dell'oroscopo di oggi. Oroscopo bilancia. Brutto sentirsi osservati. Non piace a nessuno sentirsi osservati, dal suocero, dal capo, dall'amministratore delegato, figurarsi dalla luna che dal pomeriggio si piazza allo zenit tenendo d'occhio tutte le vostre mosse, anche le più banali della quotidianità. Eppure in mattinata dai gemelli vi è stata amica, lanciandovi segnali di complicità, che tuttavia Mercurio e Nettuno impossibilitati ad uscire dal recinto non hanno voluto o saputo cogliere, mettendo al ribasso da un lato la vostra creatività e l'intuito, dall'altro le vostre funzioni logiche, oggi piuttosto scarse. Bel guaio se a scuola avete in programma il compito in classe di matematica, peggio ancora per chi è in procinto di sostenere un esame universitario dove cifre numeri sono i padroni di casa. Ogni cosa ha il suo rovescio e dal male può nascere il bene, ci sono buone opportunità e condizioni per capovolgere una situazione che vi vede sofferenti a vostro favore. Destino che mette le cose a posto, anche se potrebbe essere un processo lento e faticoso. Amori che rinascono sotto auspici diversi che potrebbero riparare i guasti del passato. I single potrebbero andare incontro a un periodo di rinascita ricco di prospettive nuove e opportunità certe. Curate di dedicare molto più tempo alla famiglia, lo stress e l'incalzare del ritmo quotidiano vi stanno portando a trascurare i preziosi rapporti familiari. Così non sia. Chiarite subito con un parente alcune circostanze e situazioni che potrebbero con il tempo inficiare i rapporti. Siate cordiali ma mantenete fermi i vostri principi. Cercate di non bervi tutto quello che oggi vi verrà detto, sono semplici spacconate di persone che vogliono colpire la vostra immaginazione ma niente di concreto. Lasciate le favole ai bambini ma non date modo agli di capire che non ci cascate. Oggi fate tutto con calma evitando quella fretta che qualche volta vi caratterizza. Inoltre non dimenticate che essere flessibili e più tollerante aiuta tantissimo in molte circostanze. Un bilancia o un pesce oggi vi tirerà un tiro mancino, soprassedete e ignoratello. Sarà la giusta vendetta. Cercate di stare attenti a tutto quello che vi succede intorno, fate attenzione alle critiche che riceverete oggi. Non tutte potrebbero essere ingiustificate. Mantenete buoni rapporti con tutti. Opportunità di organizzare piccoli viaggi con amici con cui dividere spese e risorse, le proposte potrebbero fioccare e non escludete l'estero e città come Londra, Parigi e Madrid. Scegli la tua professione per entusiasmo, e quando questo si smorza può nascere la crisi e la spinta a mutare direzione. Sentimentalismo. Scrivi alla persona che ti interessa qualcosa di carino e di romantico. Fai più attenzione alle coincidenze. Gioca e tenta la fortuna. Spostamenti favoriti. Attivissimi in ogni sport, gioco all'area aperta, riuscite a guadagnarvi il ruolo di capobanda nelle allegre situazioni in cui vi troverete. I rapporti in famiglia sono protetti da mercurio in vergine e dal sole stabilizzato in congiunzione nel vostro segno, sarete animatori indispensabili di un allegro clima di divertimento. Venere, entrata in Scorpione e Giove in Gemelli, inoltre riempiranno di ilarità questa vostra giornata di settembre. Potete chiudervi alle spalle una fase non facilissima, sapendo di aver operato sempre per il meglio. In mattinata la luna in Gemelli vi sorride con un trigono d'aria, perturbato però dalla quadratura di mercurio, taciturno nella vostra dodicesima casa e di Nettuno che gli dà contro. La logica oggi non è il vostro forte, soppiantata dall'intuito di Nettuno, prezioso soprattutto sul fronte lavorativo. Più complicato il pomeriggio con il passaggio della bianca signora in cancro, nel punto più alto del vostro cielo dove si scontra con il marito sole che per quieto vivere e permetterla a tacere le chiude la bocca prima con un bacio, poi con un cioccolatino, infine con uno stratosferico regalo suggerito da Venere elegante e spendacciona nella vostra seconda casa. Amore ed Eros. In coppia si parla poco, la vostra possessività può risultare sulle prime divertente, ma alla lunga diventa fastidiosa. Il partner ha bisogno di respiro e soprattutto della vostra fiducia che non ha fatto nulla per scalfire. Le male lingue sono sempre quelle di famiglia, in primo luogo la suocera invidiosa o la vostra cara mammina che non vede l'ora di togliersi il rivale dai piedi. Attenti anche alle voci di quartiere che si divertono a parlare per il semplice gusto di dare aria alla bocca. Spumeggianti e vivaci, non avrete che da raccogliere gli ammiccamenti e le proposte che arriveranno da più parti. Fase di calma e di equilibrio nelle coppie rodate specie se appartenete alla prima decade. Se invece siete in cerca dell'amore, i pianeti promettono scintille quest'oggi, specie se nati dal 2 al 9 di ottobre. Il vostro fascino è ribadito da un bel gioven gemelli, armonico per il vostro segno, che non smette di formare buoni aspetti e vi fa sentire spigliati in nuovi ambienti sociali. Buon divertimento con astri così benevoli. Lavoro e denaro. Vi svegliate pieni di idee ma, a corto degli strumenti indispensabili per metterle subito in pratica, vi smontate. A condizionarvi sono l'ambiente e la competitività dei colleghi, anche l'indifferenza del capo che guarda altrove e una sottile mancanza di autostima. Puntate tutto sul fisico come armatura, ma sotto al profilo intellettuale e animico oggi vi sentite fragili. Spese pazze per l'immagine, la casa e la cucina, se stasera offrite una cena dovrà essere indimenticabile. Potete sfruttare questa giornata per riflettere su alcune importanti mosse da compiere in campo professionale. Perché mercurio nel segno amico della Vergine vi farà analizzare tutti gli elementi per una strategia d'azione vincente al lavoro. Benessere. Alla salute tenete tantissimo ma sarà lei stamattina deludervi con un principio di raffreddore, un indolenzimento già autunnale e quello strano senso di pesantezza prima allo stomaco, poi alla testa. Qualcuno sostiene che l'emicrania figlia dello stomaco vuoto, qualcun altro invece della sua eccessiva pienezza, e voi, come segno in perfetto equilibrio, dovreste saperlo. In ogni caso per non accumulare errore su errore con i pasti oggi state leggerini. Per lei, il raggio lunare mette in luce la vostra bellezza, da leggersi non solo in senso fisico, ma insieme a questa anche quella vena di narcisismo e possessività che di regola riuscite a mascherare trincerandovi dietro il ventaglio. Non oggi, però, molto si chiarisce anche riguardo la vostra tenera ma controversa personalità. Per lui, voglia di viaggio? Metteteci una croce sopra, rientrati da poco dall'ennesima vacanza per il momento non se ne parla nemmeno. Altre priorità vi attendono allo sportello della banca, non per prelevare, ma per effettuare bonifici. Colore delle emozioni, crema. Barometro dell'umore, variabile con schiarite. Pagellina del giorno. Sentimenti, 9, attività, 7, finanze, 9, benessere, 7. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata. Grazie per aver guardato il video.